Attenzione perché in casa Juventus si muove qualcosa da un punto di vista delle cessioni e non soltanto per quanto riguarda i big ma anche per quanto riguarda qualche giovane quindi andiamo a scoprire tutto perché dopo questa vicenda della penalizzazione è chiaro che in casa Juventus il clima è molto teso c'è chi vorrebbe probabilmente andare via c'è chi invece tiene la maglia e rimane scopriamo tutto insieme in questo approfondimento di oggi di FCM Sport che analizza un po' quello che è il mercato della Juventus soprattutto in virtù di quello che sta succedendo in virtù di quello che chiaramente sono i primi passi verso quello che è un periodo abbastanza burrascoso per la Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti io vi ricordo che qui se FCM Sport sarete costantemente aggiornati sull'arrivo di nuovi contenuti quindi se vi va iscrivetevi al canale attivate la campanella ma soprattutto un like è un gesto talmente facile quanto gratuito che non vi costa letteralmente nulla ma fidatevi per noi è davvero molto importante perché aiuta in qualche modo il sistema a farvi capire che proprio questi contenuti vi piacciono e allora andiamo alle notizie abbiamo parlato già di Weston McKennie giocatore che è stato richiesto addirittura dall'Arsenal non una squadra qualunque una squadra che sta volando a ritmi clamorosi con Arteta e lui stava aspettando un'offerta del genere occhio perché ci saranno dei sviluppi su di lui ma non è finita qua perché ci sono altre novità un altro ragazzo che per esempio potrebbe lasciare la Juventus è Marley Ake giocatore di cui abbiamo parlato molto molto spesso giocatore che francamente a me piace molto l'anno scorso l'abbiamo visto ogni tanto in prima squadra ed è un giocatore che ha delle caratteristiche molto interessanti che si potrebbero perfettamente allineare a questo contesto qui perché è un ragazzo che è molto veloce che salta molto bene l'uomo forse nel 3-5-2 non è molto adatto perché dovrebbe anche avere dei requisiti difensivi che non ha un po' l'infortunio un po' l'abbondanza in quel settore secondo me la Juventus in questo momento che tra l'altro attenzione non è più aggregato neanche alla prima squadra quindi è tornato al settore next gen ecco ha chiesto di essere ceduto non però a titolo definitivo perché ha già le valigie pronte in mano ed è pronto per fare un'esperienza di un certo livello perché intanto la prima offerta che è arrivata per lui è del Genua che avrebbe chiesto per a che un prestito addirittura di 18 mesi quindi un Genua che spera di averlo intanto per tutta la seconda parte di stagione quindi per tutto questo ultimo pezzo di serie B e poi il Genua che spera chiaramente di salire spera di averlo per un anno intero l'anno prossimo in serie A quindi sei mesi di adattamento in serie B e poi tutto l'anno prossimo in serie A un Genua che potrebbe secondo me da questo punto di vista fare un favore alla Juventus perché si prende un giocatore gli fa fare un anno o meglio sei mesi in serie B poi gli fa fare un anno pieno in serie A qualora dovesse rimanere o meglio qualora dovesse salire in serie A ma anche un altro anno in B secondo me male non gli fa a questo ragazzo e poi potrebbe la Juventus ritrovarselo pronto per la prima squadra un po' come è successo con il percorso alla Cremonese di Fagioli Fagioli ha fatto un anno alla Cremonese in serie B e quando Fagioli fu venduto alla Cremonese in serie B tutti abbiamo detto eh ma Fagioli doveva essere la prima squadra e quant'altro poi però vi ho visto che quell'anno alla Cremonese quindi la titolarità l'effetto vero di essere un leader gli hanno fatto benissimo e ora lo vediamo quanto è migliorato attenzione perché su Ake ci sono molti interessamenti anche da parte di alcune squadre francesi lui che tra l'altro viene da Francia quindi occhio attenzione anche a Tommaso Barbieri abbiamo parlato di Tommaso Barbieri più volte abbiamo parlato di un giocatore che poteva essere utile in caso di assenza di un terzino destro o comunque di un giocatore sulla fascia per quanto riguarda anche il 3-5-2 ecco Barbieri a fronte di ottime prestazioni inamichevole nel periodo diciamo del mondiale Allegri non si è sentito di lanciarlo in prima squadra nelle partite che contavano questo secondo me è un chiaro segnale non lo ritiene ancora pronto nonostante in quel ruolo lì però la sta giocando proprio questo Mekenni che è un giocatore che non è adatto a quel ruolo eppure lui preferisce un giocatore come Mekenni più maturo ma non di ruolo che un Tommaso Barbieri che è di ruolo ma che non è maturo ed è per questo quindi che si ragiona una cessione attenzione perché ha chiesto ha chiesto informazioni su di lui la Cremonese ci sarebbe un intrigo assurdo di mercato in cui la Cremonese si prende Tommaso Barbieri in prestito al posto di Zanimacchia altro giocatore di proprietà della Juventus in prestito alla Cremonese che però verrebbe dirottato al Parma quindi Zanimacchia va al Parma con prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A del Parma e Barbieri va alla Cremonese vedete come questo sistema di prestiti secondo me la Juventus sta facendo molto molto bene perché è un modo per far crescere questi ragazzi è un modo per farli maturare e capire quali possono essere da Juventus e quali invece probabilmente non sono ancora pronti e hanno bisogno o di altri prestiti oppure eventualmente di una cessione a titolo definitivo per esempio un'altra operazione abbastanza simile da questo punto di vista è l'operazione che vede il protagonista il Suttirol il Suttirol infatti cosa ha fatto nelle ultime ore ha lasciato andare via Nicolò Sticaviglia giocatore della Juventus di proprietà della Juventus ma era in prestito al Suttirol e lo ha o meglio la Juventus è stata costretta in qualche modo perché ha visto la possibilità di darlo in prestito in Serie A alla Sernitana e lui non soltanto è già andato non soltanto è già titolare della squadra ma anche segnato con l'Atalanta si sta mettendo molto in mostro e secondo me questo anno a Nicolò Sticaviglia serve molto perché lui è uno di quelli che secondo me insieme a Fagioli e Miretti è uno dei migliori per quanto riguarda il ruolo di centrocampista un altro che sta facendo benissimo ad esempio è Ranocchia ma ora ci arriviamo a Ranocchia e attenzione perché il Suttirol che ha lasciato andare via Nicolò Sticaviglia cerca dalla Juventus Zuelli e Sekulov anche in questo caso la Juventus gira questi giocatori e può fare un'ottima un'ottima intuizione di mercato secondo me non è finita qua parliamo di Ranocchia Ranocchia anche lui in questo momento dovrebbe ripeto dovrebbe rimanere al Monza e tra l'altro sta facendo anche lui delle ottime partite è vero che lì c'è molta concorrenza perché tra Robel tra Sensi e tra Pessina non è facile giocare nel centrocampo del Monza però lui potrebbe comunque rimanere e fare il suo perché comunque in Serie A si sta facendo notare occhio anche a Frabotta in questo momento è in prestito al Frosinone ma attenzione perché lui ha chiesto di andare al Genoa il Genoa praticamente è un'isola perfetta per i giocatori che cercano consolazione attenzione invece perché l'ultima chance di andare a giocare altrove poteva averla sull'E ma dovrebbe rimanere con Allegri fino a fine stagione perché sull'E per Allegri che all'inizio non era pronto durante l'annata ha dimostrato non soltanto di essere molto di essere pronto per la Serie A ma ha dimostrato anche di essere assolutamente disponibile nei ruoli c'è un Jolly perfetto duttile ecco cioè lo metti trequartista lo metti esterno a destra lo metti esterno a sinistra lo metti esterno di centrocampo o di attacco per lui è indifferente si mette sempre molto a disposizione e sfrutta le sue abilità al meglio e quindi sull'E almeno lui dovrebbe rimanere per il resto come vedete una pioggia di movimenti di mercato che sono tutti nell'ottica di migliorare questa squadra anche per il futuro perché lo stiamo vedendo con i Samuelson Jr con i Miretti con i Fagioli questi giovani che ti ritrovi in under 20 o meglio nella next gen poi la loro crescita poi servirà per la Juventus del futuro un calcio sostenibile vuol dire prenderli giovani e sperare di non spendere cifre folli poi dopo quando già sono esplosi un po' nello stile Atalanta in questi stili qua c'è una Juventus che deve in qualche modo anticipare la concorrenza ecco lo può fare in Italia ma ha dimostrato di saperlo fare anche in Europa perché quando prendi Samuelson Jr così giovane non è uno di questi che tra tre anni sarà un bel giocatorino che magari lo vedi fuori giocare come Borussia e dici wow questo è forte magari vale 40 milioni stessa cosa un Marley Ake tra qualche anno potresti dire wow questo vale 25-30 milioni ecco averli già in rosa secondo me è una gran cosa ditemi la vostra qui sotto nei commenti se qualcuno di questi vi piacerebbe già attualmente in prima squadra se qualcuno di questi merita addirittura la gestione a titolo definitivo se è il progetto giusto per la Juventus ditemi la vostra qui sotto nei commenti